ciao ragazzi ciao a tutti bentornati su tau games oggi siamo su league of legends ok siamo su league of legends io sono domingo questa è una partita normal sono con il re dei troll qui con shako top siamo stati abbastanza sfortunati anche se è una normal ci interessa poco comunque questo bastardo ha piccato l'insin top non so perché probabilmente ha swappato con il jungler perché aveva piccato dopo di me cioè il mio jungler ha piccato dopo di me e lui ha piccato dopo il mio jungler probabilmente prima del mio jungler quindi ha pensato non lo so comunque mi ha piccato questo bastardo contro sono contro l'insin counter di sto cazzo di shako ma non interessa poco perché questa partita la vinceremo lo stesso loro hanno due tank in bot non hanno la di carry e noi abbiamo venn in bot che venn squadra e tank quindi questa partita forse forse la vinceremo la vinceremo ok ok vediamo un po non ho messo le shako box perché sono un coglione mi sono messo a parlare ora mettiamo di shako box che mi sono dimenticato quest'anno l'insin suo bastardo ha piccato l'insin non so perché ormai mente ha visto che poi ha piccato warwick il mio compagno qui ha detto abbiamo swappo shako sarà top bastardo infame io metto una shako box qui andrà a fare un marrone kicking da quella fessa e soccata vieni 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 si gira ti ho quello voglio ah è chiamato minio picco top dai vuotori niente mi sorprende eh niente niente questa è questa è volevo fare una partita con blitz granchi in realtà top che ho visto ultimo video di coglioni solo che me l'hanno bannato quindi niente niente avrei bucchi oh un gula soccata mi fai tutti sti danni frate mi fa tutti questi danni un calcio di lesin ok ci builderemo full ap eh 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 ti è piaciuto questo show però no non ti è piaciuto a me si fatto che lesin ci vede ci vede sto figlio di puta oh lesin mi ha fatto nuyons però eh ho sbagliato ho buttato il cortello su il minio io c'ho l'ignite lui ce l'ha lui che cazzo c'ha lui c'ha il teleport e flash o tp al flash c'ha il tp e flash un po' la farm come siamo oh lesin ma non ti sta neanche a guardare lo schivato fai caccare al cazzo come lesin da un po' cazzo di fa 5 farm ma non sto farmando il coglione si prova a uccidermi dai che io intanto non so che portare prima mi sa che porto prima la e perché comunque lesin mi vede quindi è anche abbastanza inutile portare la q credo spero di aver fatto una cosa giusta non sto farmando un cazzo roma di marone chicco di rovino sangue e si nemmeno fatto nuyons aspetta che ti castigo e farmi farmare madonna sto farmando un cazzo però in realtà neanche lui eh 7 minion no fa abbastanza cagare lì vuole puntare sulle kill vuole puntare sulle kill no che cazzo ho fatto orco giuda che fail ho sbagliato ah ho messo il tp sulla d perché ho fatto d perché ho smite di solito ce l'ho ah che fail del cazzo però posso fare così allora non c'ho mana orco giuda ok ho fatto un mini fail ragazzi perché di solito lo smite sulla d e ora lo sto usando top questo quindi volevo smitarlo volevo smitarlo ma che figura di merda acqua brio che figura di merda non ce l'ho t più per tornare in base per tornare subito ok vado a p mi faccio veloce veloce mi faccio questo aspetta mi faccio potere magico fatto mini figuracce ragazzi una mini figuracce dai in realtà non volevo ucciderlo subito capitemi che questo è un nabo soli sin quanta farm c'ha 13 di farm io m'ho un ganko mid e nulla mi sorprende mi devo fare mi sa che mi faccio quello zizirot qui perché almeno faccio speedpush aspetta che metto gli alisin ti ho visto non fare cazzaro non fare cazzaro ho usato pure niente ho usato tutto prima l'ho ammazzato perché quel tipi di merda ha usato cristo santo dai ti sei nascosto ti ho visto mamma mia ma chi è sto ritardato dai su non fammi sprecare ma dove è sto coglione ma come cazzo sta giocando tutto l'isin che sta a perdere un sacco di fai oh come voleva fare sto figlio di puttana guarda come scappa sto figlio del clero picchia la copia picchia picchia la copia picchia ritardato del cazzo ha ritardato madonna e kick mi hai rotto le pali adesso mi prende sempre si bravo mi ha buttato che cazzaro poteva ammazzarmi mi ha salvato io ci sto a morire comunque attenzione ma anche lui eh cazzo ci sto a morire contro i minion eh ma io ho giultato non c'ho il knight che cazzo si ma devo doggiare qualcosa eh non sto doggiando un cazzo ah l'ho doggiato invece lui si sta facendo la tiamat quindi si vuole fare idrafamelica oh ti ho ammazzato ti ho ammazzato ti ho ammazzato ritardo il ritardo mi ho ammazzato mi sa che me ne ho mi sa che me ne ho mi sa che me ne ho chi è il loro jungler shivano sei senza la ultimate col cazzo che mi ganka col cazzo che mi ganka shivano ok andiamo subito di protobelt di proto protocintura ci fanno le scarpe perchè voglio gankare mid ci fanno le scarpe perchè prima o poi voglio gankare mid che figura di merda che ho fatto prima con quel cazzo di ttp sul minion madonna madonsia 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 ragazzi ammetto che sciacolo non lo uso da molto non lo uso da molto perchè lo uso solo giungla e ultimamente sto giocando mai diciamo non gioco mai in giungla quindi quindi niente quindi vediamo un po' di dove sto lisin di merda non c'è lisin sono fatti il drake ok lisin sta lì lisin perché sei così serios lisin perché sei così serios perché sei così serios lisin perché sei così serios vieni che ti faccio vedere un po' la presenza vieni vieni io volevo giocare blitzcrank però volevo un po' variare con blitz top si ok mi ha preso vediamo un po' la farm super mia qui 25 a 36 ok sta a fa cagare si sei forte sei forte sei forte ora vai a casa e scappa e scappa e scappa e scappa stavolta non sbaglio col giuda abbiamo messo ignite ma non muore abbiamo messo ignite ma non muore non muore va buono se ne va se ne va si sa che se ne va si sa che mi ha visto 3 2 1 non mi ha preso credo di no credo di no avvi buchino lascio un parame mi sto divertendo ha piccato l'isintop per counterarmi ha fatto un cazzo non sta a fare un cazzo No ragazzo sto perdendo Averdo Spare 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 Abbonio 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 Non ti accorto però Allora il minimo cannone Non lo voglio perdere Non lo voglio perdere Quello l'ho perso Quello l'ho perso Quello l'ho perso Questo l'ho perso Maronne geek Maronne geek Io mi sa che Non c'ho mana Lo divo Faccio questa cazzata No dai Ragio così Oh mi ha ucciso Non mi ha ucciso Non mi ha ucciso Non mi ha ucciso Non mi ha ucciso Se guardato sono morto Vaffanculo Ma mi sono pari Mi sto divertendo molto Con questo Big top Anche perché Se top Non c'era lui ma c'era Malphite Era un guaio Quindi Malphite Stabot Ed è tutto più bello Ora vado mid Perché qui la situazione È quella che è C'è una Releon soul Che vuole morire Aspetta che Affionz Ado top Andiamo Shacklune Andiamo Shacklune A differenza di un Lissintop Shacklune È molto utile Molto ma molto Oh bello bello sto Mi sa che ha piccato Lissin Solo perché Ma Lissin è free No Luce ha skin Quindi ce l'ha Spare 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 Il ritardo è grande Il ritardo è grande Nel senso che Va piano Well play You two 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 Bella bella Peccato che è una Norma non arancha Altrimenti Sarebbe stata Tutta molto più bella Oh c'è Lissin C'è Lissin Che l'ho pingata Spero che non ci muoia C'è una forma di merda Sto Lissin Oh c'è C'è Lissin Oh me ne sono fatto prendere Ma perché scappi Affrontami Vigliacco Sto vigliacco Del cavolo Del Kaiser Vediamo i build AP Mi faccio Anche la Tiamat Oh bellissimo Ma quanto fai schifo Ma quanto fai schifo Tutte e due L'ho pitato tutto Aspetta che Aspetta che lo ammazzo 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 Quella che è C'era me contro l'wart Quindi non mi vede Uuuu Non c'ho mano Sorma Sorma non c'ho mano Ok 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 Dai Mi hai colpito Ho la puo E buttati addosso Ha paura Ha paura Il giovane Ha paura Ha paura Il giovane Il giovane Lissin Ha paura Ha paura di morire Ok Fanny game Fanny game Stta partita sarà molto molto bella Nel senso che durerà poco Nel senso che durerà poco Molto divertente Perché con Shacktop È sempre tutto divertente Anche perché ci è capitato Un Lissin top Non so perché Voleva counterare E sta facendo solo cacare Ok Shacko Shacko Menni Shacko Menni Mi dicono Perfetto Io me ne vado Me ne vo 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 Attenzione Voleva ammazzare Ok ora mi faccio Mi sa le scarpe Del cooldown O mi faccio Penetrazione Ma io mi faccio Fate un po' Faccio le scarpe Di penetrazione magica Poi che cavolo mi vo Che cavolo mi vo Che cavolo mi vo Ok faccio questo dai Certo che all'inizio ho fatto un bel fail Quel tp è stato proprio magistrale Aspetta che salvo un attimo questi Senti che Shacko culone No Lee Sin tu non scappi Ok ti ha ammazzato Wayne Perfetto Perfetto Usciamo mid Usciamo mid Ma che partita easy Che partita easy Pensavo di morire male Con Shacko Top Invece Si sta rivelando Molto più facile Di quello che pensassi Mi sa che questi Surrendano Anche perché Non c'è una di care Spero che mi ammazza Hanno surrendato Dai posso mai caricare Una partita così scarsa Nel senso Gli avversari E' molto deboli Non lo so La carico Dura poco Un video giusto Per caricarlo Così diamo anche Continuità al canale Ok Quindi se il video vi è piaciuto Io vi invito Ad iscrivervi A lasciare un commento Un commento se volete Volevo dire Non mi piace Mi è uscito un commento Comunque lasciate un mi piace Fate quello che vi pare Ok Io sono Domingo Vi auguro un buon game Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti